bella tutta la storia soluzione 0 1 in questo nuovissimo video di pacco 11 online questo pacco sono da sola abbiamo un vapore acceglie 5 di sconto primordiale pre-lays di vapore acceglie la prima ma apriamo 1 di sconto primordiale niente niente una niente poi oh energia scura mi manca oh crowdant terza dai vogliamo una essenza e' questa oh mega grass si diamo queste abbiamo anche legame mentale hindra s che fa cagare apriamo 1 di vapore acceglie dato non si dava mai niente di solito o cosa avevo detto prima per raise allora delle carte e volcani on si volcani on no ho sbagliato pronti e' l'ultimo di sconto primordiale dai dai volcani on e' buono e' basta allora l'episodio vediamo dove mi ha messo il volcanio non voglio vedere eccolo allora visite mia qui al prossimo episodio